L'evento di questa sera è un evento importante per tutti noi che conoscevano Giovanni e che vive ancora nei nostri cuori. È una serata importante perché è incentrata sulla musica e sulla beneficenza. Ricorderemo il nostro caro amico, nell'ambito appunto di un evento musicale, ci saranno tanti artisti che abbiamo chiamato a raccolta, hanno tutti risposto presente a questo nostro appello e davvero la cosa ci riscalda il cuore. L'evento in musica sarà legato anche a un evento di beneficenza in collegamento con l'associazione La Conchiglia, Ollus, a cui sarà devoluto ovviamente il costo di ciascun biglietto. Attraverso la musica cercheremo di ricordare Giovanni che era un amante di tanti gruppi musicali. Troveremo il ritorno della differenza come special guest di Fabio Falcone e company, poi ci sarà il coro gospel The New Gospel Choir, poi gli Eclipse di cui faccio parte con la musica dei Pink Floyd. Tra l'altro sarà l'occasione per una piccola chicca dove apriremo la serata con noi e seguiremo Coming Back to Life insieme al coro gospel, una cosa che non abbiamo mai fatto prima d'ora e quindi siamo veramente ben felici di poter eseguire questa canzone che è proprio un inno alla vita. Poi ci sarà il coro parrocchiale dell'incoronata, il ritorno pure degli Attac, il gruppo storico di Angelo Canelli alla guida di Danilo Laccetti. Poi ci sarà un quartetto jazz creato per l'occasione formato da musicisti eccellenti come Mauro Gallo, Rocco Monteferrante, Paolo Giuliani e Luigi Laverghetta. E in più ci sarà pure l'apporto della Corrale Warm Up di Alessandro Bronzo che da anni si dedica al sociale. Quindi l'evento è ricco di musica, ricco di sorprese, quindi vi invitiamo tutti a partecipare questa sera. Grazie a tutti coloro che ci hanno manifestato e ci hanno descritto Giovanni come lo conoscevano, come una persona buona, sensibile e amante della musica e del prossimo. E quindi non vediamo l'ora di sentire suonare questi strumenti e questi pezzi. E con l'occasione ringraziamo tutti coloro che hanno acquistato il biglietto e ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicini con piccoli o grandi contributi. Poi tra un cambio di palco ed un altro, tra i vari gruppi, ci saranno delle sessioni acustiche a cura di Alessandro Vizzarri, Fabio Falcone, me e lo storico batterista della differenza Max Giuliani e in più un paio di sessioni acustiche a cura degli studenti del polo liceale Mattioli di Vasto. Ci teniamo vivamente a ringraziare tutta l'amministrazione comunale. In prima persona il sindaco Francesco Menna, l'assessorato alla cultura, in particolare Nicola De La Gatta, che si sono veramente prodigati e ci hanno supportato dall'inizio per far sì che questa serata nascesse e si sviluppasse nel migliore dei modi. Un caro saluto va anche a Stefano Pollutri di Idea Stampa perché lo ringraziamo per la sua sensibilità e per averci supportato in questo progetto. Vogliamo l'occasione anche per ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino e ci sono vicino per questa serata, in particolare Piero Garone di Grido Cineteatro, lo staff del Teatro Malona dell'Asilo e anche Fabio Tuimini per tutta la parte audio e video. Ci sarà la possibilità di seguire in diretta questa sera l'evento attraverso una piattaforma streaming.